Ciao tesori, buongiorno e benvenuto a un nuovo video Ah, è proprio così? Allora, oggi andiamo qui perché mamma mi nasconderà dei dominelli E io dovrò cercare la sorpresa Allora, in pratica... E mi ha chiesto il tesoro Oh, che cosa è successo in pratica? È arrivato uno dei regali di compleanno di Lara Perché Lara compie gli anni il 30 aprile Però questo regalo in particolare È un regalo che... Lo posso aprire Dopo vi spiego Diciamo che è un regalo che se non va Va subito riconsignato indietro E non vi posso di altro Quindi, adesso gli ho fatto dei bigliettini Che adesso andiamo a nascondere insieme io e voi Lei adesso chiude gli occhi Io li nascondo E lei dovrà trovare per tutta casa Dove stanno queste cose Quindi andiamo Allora, il primo glielo posiziono qui Così capisce subito dove deve andare Allora, il primo glielo posiziono qui E lei è di più ci siamo il primo bigliettino esatto è questo qui allora te lo leggo ovviamente c'è scritto allora che cosa intuisci dal disegno secondo te che cos'è quindi dove la mamma il bagno no dove è che si trucca la mamma lì c'è un altro bigliettino c'è un altro bigliettino cani vediamo un po' che cosa c'è scritto dove mangia Caio bevissima allora c'è che la mamma da qua si Lara scusa è proprio nella pappa di Caio dentro la pappa no 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 non devi toccare lì sollevo no sono lì dentro ho detto la pappa di Caio qui che c'è scritto dove si lavano i denti davvero sì vediamo se c'è scritto questo dove si lavano i denti grande andiamo al letto dove si lavano i denti andiamo è aperto è aperto è già aperto oh oh c'è un trappolino grande dove salti vai mamma mia ma sei un trappolino intelligente il trappolino eccolo un divano ma come hai fatto ma come sta facendo ma sei velocissima ma non è possibile no sul divano sul divano devi cercare sopra sul divano sul mio letto no non è il tuo letto quello capisco leggo nell'armadio quale armadio il mio no il vostro no vuoi che te lo leggo sì ok c'è scritto si legge per così dove mettiamo la carta igienica di qua lì sopra lì sopra lì sopra lì sopra l'hai trovato l'hai trovato dove quello arancione quello arancione Lara no ma non è quello è un profumino Lara quello arancione sì brava aspetta ce la fai attenta è gigante sì ok tesori altra volta l'acqua apri volo apri allora te lo posso ufficialmente dire no te lo dico tra 30 secondi ma non me lo dire lo voglio scoprire io no non ti voglio dire che cos'è cos'è una scatola una scatola una scatola nella scatola sono le mie stanno mi sa mi sa questo regalo è da parte della nonna marinella sono le mie stanno roste quelle che volevi patata è contenta bene le dobbiamo subito provare per vedere se stanno bene patata ecco perché abbiamo dovuto ecco perché le abbiamo dovute trovare subito lo so patata guardate quante ma fai vedere quante cose rosse hai oggi addosso eh adesso è il full outfit rosso è il full outfit rosso è vero gli orecchini rossi le unghie rosse la maglietta rossa i pantaloni rossi le scarpe adesso rosse come mai le volevi così tanto quelle rosse beh c'ho quelle bianche c'ho quelle rosse e sto diventando un po' più grande mio padre quindi ahà abbiamo voluto la taglia più grande quindi ti piacevano proprio le volevi rosse sì sì ho capito beh è giusto è molto conscienziosa cioè lei l'ha chiesto proprio alla nonna per il compleanno voleva questi questi all star è vero? come è questo? va a dire che bello quando sei bello quando sei buono madonna mia la bellissima questo cauno ce la fai? vuoi una manina? no no ancora è il video della guarda è bello è il video della Lara non è il tuo ti entrano anche senza calze? io l'ho detto io di non metterle giusto per gli dai la mano tu giusto per se gli puoi dare una mano guarda che esistema il volo vabbè intanto apriamo le dane perché queste qui sono fatte di canvas ah non si è ucciso là sopra è Lara che gli ha dato un bacino perché aveva anche il rossetto rosso si aveva il rossetto rosso e quindi sembra che c'è tipo le cose la dermatite no le facciamo entrare che figa caspita che figa caspita ma la va attaccando è pulita tantissimo allora dobbiamo fare il polizio fammi sentire eh sei cresciuta quanto sei cresciuta lei non so perché ma vuole si vuole essere allacciata dietro perché mi piace perché almeno non mi si allacciano no ma non ti si slacciano no no come si mette per si slacciano anche là dietro è molto complicato puoi tirarli ancora più su il piede il bello di Lara è che è snegata è totalmente slogabile sì no slogabile come si dice è totalmente elastica è totalmente elastica quindi la puoi mettere in qualsiasi posizione il piedon ma come faccio Lara ok ho capito subentra mamma Lara fai un attimo oh ecco adesso ci siamo ecco fatto fatta rimango la madre sono troppo calmo io ne state le voglio tenere bene un po' amore tanto noi facciamo una videochiamata ai nonni e gli facciamo vedere che sono arrivate che sono arrivate è vero è una faccidetta da mofit madonna mia sembra che ti stiamo uccidendo tu non puoi stare sempre al centro dell'attenzione noi viviamo praticamente come come fossimo una cosa sola non ho più un attimo per me vive sempre quanto cosa ho capito che mi ami però allora a quanto pare devo fare le riprese così perché a quanto pare qualcuno deve stare in pole position ah si è anche seduto si prepari molto bene si si vabbè si sto ti sto accarezzando tira su Lara madonna che geloso incredibile ho solo detto il nome di Lara sacca io che si sta iniziando a preoccupare cosa succede nella vostra vita cari cosa succede amore scusate la coda di Caio ok contento bellissime te le darei per un po' per quante ore 50.000 ah 10 ore ammazza ci vuole far vedere che bella le scappette le scappette io ti ho regalato bellissime allora vedrete nel mio canale oddio una caccia al tesoro che abbiamo fatto per trovarle come stanno di lunghezza bene 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 stanno bene stanno bene stanno bene ma guardate qualche poi vedrai la sua reazione in diretta era stracontenta fandene vedere tira sul piedino mamma che belle che sono a parte che ha capito subito che erano scarpe subito ma devi vedere la reazione io ho già preso ovviamente il suo regalo di compleanno e sono ben due regali di compleanno però non solo però ce ne saranno anche degli altri l'unico modo per fargli togliere le scarpine è stato perché dopo tipo due ore dovevamo fare il bagnetto vero? guardate una tenda una tenda? guarda speriamo che non se ne metta per dormire guardate 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 guardate